Ciao, sono Patrick. Hai sentito parlare di prima assicurazioni? Con la polizza auto poi... In caso di sinistro, i nostri consulenti ci sono... A qualsiasi ora! Ti rispondono sempre dall'Italia e... Ma c'ero prima io. Per prima vieni davvero prima di tutto. Anche di Patrick. Scegli la polizza auto su prima.it o in agenzia. Tu, prima.